Si chiama Raker Bland, è un volto famoso nella BBC ma anche molto amato e pensate che da tempo sta lottando contro un cancro, contro un tumore e pensate che si sta preparando per dare l'addio alla vita a soli 40 anni d'età. Sta lottando infatti contro questo tumore, contro questa bestia nera e sembra che nemmeno la chemioterapia sia servita a molto. Già nel 2016 le fu diagnosticato un tumore al seno e sembra, ripeto, che a nulla è servita la chemio. La donna aveva spiegato nei giorni scorsi al pubblico di essere dinnanzi ad una corsa autentica contro il tempo. Era in procinto di scrivere un libro in memoria da lasciare al figlio di soli due anni d'età, di nome Freddi. In un toccante post ha rivelato quindi tutto l'immenso dramma che sta vivendo in questo tempo, che ancora le rimane da vivere. Grazie infidamente per la visione, per l'ascolto, iscrivetevi, commentate, un saluto e al prossimo video.